Buonasera Milano. Con un Napoli senza culibalia e Manolas, quindi i suoi migliori difensori, la Juve perde una grande occasione di accorciare sul Milan, battuto successivamente allo Spezia, e solo Chiesa riesce di fatto a combinare qualcosa, quando non si perde in sciocche proteste che vedremo più tardi. Comunque, la partita comincia con gli episodi importanti al minuto 28, quando c'è il calcio di rigore per il Napoli, calcio di rigore che non era stato assegnato dall'arbitro, ma richiamato dal VAR poi l'arbitro concede questo calcio di rigore per un netto fallo di mano di Chiellini, che giustamente protesta. Perché dico giustamente? Perché non era calcio di rigore. No, no, era calcio di rigore grosso come una casa. Però Chiellini, da quando è alla Juventus, di falli come questo ne ha fatti un sacco e non ho mai visto fischiare un calcio di rigore per una roba del genere. Quindi io capisco le proteste di Chiellini, anche se non sono proteste che condivido, perché il calcio di rigore è nettissimo come nettissimo è il cartellino giallo, perché non si mettono le mani in faccia ai calciatori delle altre squadre. Comunque, Insigne si prende la responsabilità dopo i vari errori dal dischetto con la Juve e porta in vantaggio il Napoli. La partita arriva fino a fine il primo tempo in modo abbastanza equilibrato, diciamo che ci sta al vantaggio del Napoli. Succede però al minuto 37 una sceneggiata, ovvero tenete presente che Di Lorenzo è ammonito, quindi Pirlo chiede espressamente a Chiesa di puntare Di Lorenzo, giustamente, perché creando una situazione di questo tipo magari si può far ammonire il giocatore dell'altra squadra e giocare in uno in più. Non ci vedo nulla di antisportivo, ma tutto normale. Quello che non è normale è che per un fallo, che era sì fallo, ma non era assolutamente da ammonizione, Chiesa fa una sceneggiata che non finisce più, va anche dal quarto uomo a protestare. Probabilmente era la giallo Chiesa per questa sceneggiata, tanto più che al minuto 41 lo stesso Chiesa, benché fuori area, simuli ma l'arbitro non si faccia fregare. Probabilmente Chiesa, abituato a simulare di default, simula anche fuori area per prendere una punizione e non un calcio di rigore, no? Vabbè, comunque, di fatto l'arbitro non ci casca e Chiesa, tanto per cambiare, non fa una bella figura. Ottimo il primo tempo di Lozano che mette tanto in crisi quadrado, pur pericoloso quando spinge perché quel poco che ha fatto di buono la Juve nel primo tempo lo ha fatto con quadrado, in spinta però, in proiezione. Mentre invece Gattuso mette pesantemente in difficoltà quadrado dal punto di vista difensivo, usando appunto un calciatore col passo molto simile a quello di quadrado, sto parlando di Lozano, un giocatore veramente ottimo, mi ricordo nella partita con l'Inter fece molto bene e quindi diamo un po' di merito a Gattuso, visto che gli avete versato palate di non mi fate dire di cosa addosso, diamo un po' di merito a Gattuso che ha fatto una mossa vincente. Poi vabbè, quadrado si fa male e viene sostituito a fine primo tempo, però ottima mossa di Gattuso, voglio sottolineare questo. Nel secondo tempo sale la pressione della Juve, devo dire che probabilmente meriterebbe anche il pareggio perché è veramente tanta la pressione alta della Juve sulla costruzione bassa del Napoli che comincia a sbagliare, a sbagliare diverse volte, a subire dei break alti, però di fatto la Juve un po' pasticciona, più pasticciona che sfortunata, quindi non riesce a capitalizzare, devo dire anche grazie a un'ottima partita di Meret, sicuramente tra i migliori finalmente, visto che per il momento Ospina è stato sempre superiore, tanto più che ha la capacità anche di costruire dal basso, cosa che Meret non ha, molto meno bravo coi piedi, però protagonista di una grande partita. Meret molto bene, Bakayoko, insigne nel primo tempo Lozano per la Juve, direi chiesa, nonostante le sceneggiate, nonostante non mi sia simpatico perché a me piacciono i calciatori sportivi e corretti e chiesa non è né sportivo né corretto, però se analizziamo la prestazione della Juve direi che chiesa è stato il migliore. Bene, il video finisce qui, fatemi sapere cosa ne pensate, io faccio un appello a tutti, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, un saluto al mio caro amico Marco Chiodi e a tutti i vari amici giuventini e napoletani che mi seguono, vabbè gli giuventini saranno un po' meno contenti, li saluto comunque e un saluto a tutti e al prossimo video, ciao ragazzi!